Ciao a tutti! Oggi vi forniremo un'intervista meravigliosa con un personaggio, icona del mondo LGBT in Italia e anche all'estero. Vi presentiamo a Sheila Lamborghini in questa intervista. Sheila, ti diamo il benvenuto a Piccole Magazine. Il tuo nome, Sheila Lamborghini, è un nome che realmente si fa sentire nella community di Milano, principalmente. Allora, sarebbe interessante conoscere un po' di più su di te. Cosa ci racconti sulla tua traiettoria di vita, da quanto che sei in Italia e come la vivi attualmente, Sheila? Ciao a tutti! Mi chiamo Sheila Lamborghini, sono brasiliana di San Paolo e attualmente vivo a Milano. Quello che ho potuto vivere da quando sono arrivata in Italia è stata la conquista, sono riuscita a realizzare tutti i miei sogni. Bene, Sheila, visto che sei in Italia da un bel po', desideriamo sapere cosa ha cambiato da quando sei arrivata fino ad oggi. Cosa ha cambiato dentro di te, Sheila? Attualmente cosa è cambiato? È cambiato che oggi sono più serena, più tranquilla, così. Quello che è cambiato dentro di me è che oggi sono una persona più serena, più tranquilla, e sono una persona felice e realizzata. È quello che è cambiato dentro di me. Allora, parliamo di te come escort, visto che sei catalogata o riconosciuta come la number one di Milano. Cosa secondo te ti ha fatto conoscere come questo personaggio, la number one di Milano? Io sono catalogata alla number one, numero uno, ma perché loro mi hanno dato queste, queste, mi hanno catalogata così, no? E per essere una trans bisogna avere, essere una number one, numero uno, bisogna essere bella, bisogna essere curata, bisogna avere intelligenza e testa. Allora, la vita di una escort attualmente si somiglia a quella vita di anni fa, oppure ha cambiato qualche cosa in questi anni? Com'era una escort in quei tempi? Qual è la differenza tra quei tempi e questi tempi, Sheila? No, la vita di una escort di adesso non è come quella di anni fa, non è la stessa cosa. Si è cambiato tanto perché le escort di prima sapevano lavorare, sapevano si comportare. Sì, a volte ti piace parlare di una parola molto importante da sempre, di più in questi giorni, il valore. Cosa significa questa parola per te? Si, questa parola valore per me c'è un significato che è il rispetto per se stessa e anche per gli altri, questo è molto importante. Allora, se tu in questo momento avessi l'opportunità di insegnare alla nuova generazione dei ragazzi escort, come ti piacerebbe iniziare? Guarda, non dico insegnare, ma consigliare, dare un consiglio di approfittare, di non stare e frequentare brutta gente, e avere attenzione di non perdere con le cose sbagliate, con persone sbagliate e approfittare il massimo possibile di questa opportunità. Perché la gioventù passa per tutti. Allora, ritornando a quella conversazione, a quella domanda che ti ho fatto prima, quando ti ho detto che sei catalogata come la numero uno di Milano, ma sei anche catalogata come una sexy star, come una pornostar a Milano. Queste due nominazioni che ti fanno tutti i tuoi followers, tutte le persone che ti conoscono secondo te, ti piacerebbe dire qualche cosa per tutti coloro che ti hanno dato questa bellissima valutazione? Sì, sono catalogata dai miei fans, Bomba Sexy e Pornistar, questo è vero. Bene, e parlando come dicevo prima, di tutti i tuoi followers, di tutte le persone che ti conoscono, cosa ti va da dire per loro che aspettano una bella parola, un bel saluto dalla tua parte? Bene, Ceila. Io saluto a tutti i miei fans, un abbraccio e un bacio caldo a tutti voi. Bene Ceila Lamborghini, ti ringraziamo tantissimo per questa meravigliosa intervista, sei stata molto attenta con tutte le domande, con tutte le risposte che tutti desideriavamo sapere. Grazie mille per il tuo tempo, per dedicarcelo a noi piccole Megasim, ti ringraziamo del cuore. Ceila Lamborghini, vuoi aggiungere qualcos'altro su questa intervista per salutare a tutti? Volevo ringraziare te, Daniel, per l'opportunità e l'intervista. Ringraziare a tutti i staff, la Margherita e tutte le staff di piccole trasgressioni che hanno avuto sempre pazienza con tutti noi. Un grande bacio a tutti voi. A presto! 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 . Aspetta! Grazie a tutti